Domenica scorsa l'alta moda ha fatto ritorno a Casa Serena per un evento curato dall'organizzatrice Adele Loriga con un ospite di rilievo, lo stilista sassarese Roberto Stella, oggi coordinatore dei punti vendita della boutique Profumo di Sardegna di Malarita Sommo e che ha accolto l'invito dell'amministrazione comunale a collaborare per la riuscita di un appuntamento a cui lui stesso per molto tempo ha partecipato con le proprie creazioni. Sul palco anche volontari e modelle con abiti cuciti dagli stessi anziani e dal laboratorio artigianale di Paola Tangiano e poi nuovi scialli dipinti a mano, abiti e capi spalla unici creati e confezionati durante l'anno. Non sono mancate musica e danza, il tutto con la collaborazione volontaria di tanti che hanno voluto garantire una serata di svago agli ospiti dell'istituto. fondamentali per l'evento le competenze e le sapienti mani delle sarte che vivono a casa serena e che hanno frequentato il laboratorio. La sfilata di moda è solo uno dei tanti appuntamenti organizzati dall'amministrazione comunale in collaborazione con la Copas per valorizzare la residenza di via Pasubio e il suo spazio verde.